Sono Chiara Mio, da quest'anno nuovo direttore del Master in Economia e Gestione del Turismo. Con grande entusiasmo accetto questa sfida, Master che ha il suo ventiquattresimo anno, un Master che prepara ad affrontare le sfide che oggi il turismo si pone. Il turismo è una delle leve su cui l'Italia riuscirà a crescere e a svilupparsi ulteriormente. Sono molto contenta di accogliere i ragazzi che poi andranno a lavorare in questo settore per capire come creare valore in questo settore dei servizi. Il nostro Master è caratterizzato da un'ampia interdisciplinarietà e sono convinta che questo collegamento aziende e i nostri alunni proverà a essere un elemento di successo e contribuirà allo sviluppo del Paese.